Buonasera a tutti, mi presento, io sono docente di organo del conservatore Puccini e mi trovo in questo salone, molto carino, di una certa importanza, nel quale abbiamo questo strumento costruito da Glauvo Viranti, con il Granado di Lucca, nel 2001 ed è uno strumento in stile tedesco. e stelle qui, in questo strumento, qui stelle da un'ordello in questi 20 anni, del 20. di questo ordello, che un ordello di Lucca ha un prodello di Lucca, che ha già fatto, Glauco Dilardi, in 2001, in un stile in italiano. Ed è, diciamo così, una rarità per un conservatorio italiano, perché è un organo ispirato soprattutto a un'esecuzione di musica barocca, dove appunto ci sono, come in Germania sempre bene, registri adatti per quel tipo di letteratura, di pezzi, e ovviamente anche il tipo di costruzione, interamente meccanica, con pedaliera piatta, e quindi con delle torbi del pedale, che appunto riportano un po' a quella che è la tradizione tedesca barocca di costruzione di Also, wir befinden uns hier im Conservatorium, und dieses Instrument ist sozusagen für Italia eine Rarità, weil das voll in der Tradition, in der deutschen Tradition, gebaut wurde, und vor allen Dingen in der Tradition der barocken Orgel, mit einem flachen Pedal, was und was ist ziemlich ungewöhnlich, eben, für Italia? Bene, oggi mi alvarro dell'aiuto di un studente, che si è diplomato pochi mesi fa, Davide Lucchi, che inizierà per l'esecuzione e anche per l'aspirazione dei brani, che andremo a analizzare. Bei dem Vortrag wird ein ehemaliger Student, der also sein Diplom in diesem Jahr gemacht hat, anwesend sein, und wird dem Dozent helfen, sowohl was Vortrag an sich, also Einzelheiten angeht, als auch was das Vorspielen der Stücke angeht. Ecco, e il tema che abbiamo, ho pensato insieme a questo mio studente, è un tema che appunto tocca proprio questo periodo, e l'abbiamo chiamato così, The Waking Time, il periodo dell'attesa, quindi il momento in cui siamo adesso, che è un momento, diciamo, legato all'anno liturgico dell'Avvento, e che ci sta accompagnando verso il Natale, che è alle porte. La chiamata, la chiamata, la chiamata, è la chiamata della chiamata dell'Avvento, situazioni, ma è di un punto di liturgico, è di questo punto di liturgico, della Grenzzeit. Quindi il tempo di waiting, questo tempo di oggi è il tempo di waiting. We are waiting for a better time out of pandemia, in which we will be able to return to our normal life, school life, music life, human life. We are living now in a hope of all this, making our lives a daily arrangement of what we were and used to do every day. This is, in the meanwhile of today, a statement of things. But the waiting time gives us the opportunity to leave our thought in another way, important moment of time, of the year, of our lives. In fact, we all now are waiting for next Christmas, that will be in some days. Maybe a sort of different Christmas, we would say. Certainly, yes. But still Christmas. So, one of the important day of the year, especially for all of us. Christmas is, of course, an important day for who believe in God. For it is the day in which God comes to us as a real man, his son Jesus, born from Virgin Mary by the Holy Spirit. Our meeting today, trying to work on this, certainly, speaking by music, on the waiting time of Christmas, what we call the time of Advent. Speaking in organ class, often involves speaking of liturgical time, in relation to music that is going to be played. And so, most of all of us, the territory is made for liturgical purpose, and refers to a liturgical test, Bible text, signs, and so on. This, in special way, we can see in organ composers, in German, from early back to modern age, no less than other countries, like France, Italy. Of course, another way, another style, another kind of writing, music writing. There are some differences between the reformed church music and Catholic area church music, but often there are interchanges in both directions. Anyway, the liturgical time is the same, is the same for all. So Advent time, actually, the waiting time, has a universal value. With this in mind, today, I would like to propose some music of Bach, Johann Sebastian Bach, that will be played by my students and me, my students, Davide, Lucchi, and me. We will play some prelude to chorus from Olga Bufiain, from Advent time, trying to find some parallels, music test, music test. Especially Bach, especially Bach, especially Bach, especially Bach, write his music with a symbology, closely referred to the text of the choral, for which we can call Bach as the theologian musician. Theologian musician. Indeed, he was, knowing Bible text, deeply believer in God, able to fill every liturgical moment, Sundays, Feast of the Year, and so on, with his music, capable by his sensiveness to report in music whatever the spirit of the text says. Other two prelude to chorus will be played from the Schugler collection, and one other from the 18 chorals from Leipzig's collection. The Organs Bufiain, as we know, is a little book for organ, in which they are prelude to chorus, chorus, in use for the liturgical year, in the Lutheran service of the Church. As other keyboard works by Bach, this is, let's say, an organ method, an organ teaching method, also. In fact, it is for learning use, as well as service organ book. All the pieces are in pedago obbligato, that means the organist can get advantage to play these pieces. Moreover, this is particularly indicated by Bach's hand on the little book's front page. To the supreme God alone to prize him, to the next to be educated. The Schugler collection of six chorals came from transcriptions of original instrumental parts of cantatas, which Bach collected for organ in 1746. The other collection, the 18 chorals, from Leipzig's collection, represents top level of Bach's inspiration in Church music, relatively to prelude choral for organ. Speaking of the liturgical year, the liturgical year begins from Advent time, the time in which we are now. Four Sundays before Christmas. During this time, there is an important feast dedicated to Mary, the mother of Jesus. We start this musical waiting time from this Mary's text, the Magnificat. When Mary knows, from the announce of the angel Gabriel, she will be mother of Messiah, she suddenly goes to Elisabeth, her cousins, and she says these words. Meine Seele erhebt den Ehren, und mein Geist treucht sich Gottes, meines Heilandes. The original melody has little changes, made by Bach himself. And the original melody is... 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 Siamo ora a ascoltare questa prima parte nella versione di Shubra's collection. Bax transcrive questo organo da cantata 10, la quinta parte, duetto per alto e tenor. Erdenket del Barmarsischkeit, che è una frase del stesso magnifico. Bax takes the Magnificat's phrase with the original melody for the sorest part of the piece on the right hand. The original melody in cantata is played by Tromba da Tirazzi. It is a kind of early trombone. Here we use a solo stop for the right hand. The pedal is based on eight foot, and it will be played by principale, eight foot. Pesso, the left hand, based on eight foot. In the original cantata, pedal is played by cello, violoncello, and the left hand is the duetto between alto and tenor. Allora, qualche parola in italiano per spiegare direttamente come viene eseguito questo piccolo corale, ma è una serie redden herren su questo troppo. Certo, è un po' un po' non un po' non so, in un po' non so. nel pedale useremo il principale di otto piedi e invece per il manuale abbiamo due registri che verranno suonati all'ottava sotto quindi per il primo manuale suonato all'ottava sotto e il canto fermo affidato alla mano destra verrà affidato al suono del cromorno con otto piedi e il canto fermo suonato all'ottava sotto da diciamo così un suono affascinante su quello che è molto anche la meditazione che facciamo su questo piano attraverso questo piano e questo è una differenza di otto un'ottica 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 per questo piano che è in un'ottica e il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. 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 I due suoni devono essere distinti. In questo organo, essendo un organo piccolo, il principale del pedale corrisponderebbe al principale del gran organo. Quindi, se usato insieme non avrebbe funzionato. In questo caso abbiamo fatto questa scelta per posionare con due registri diversi, cioè principale, otto piedi, ottava, quattro piedi, all'ottava sotto, per avere due strumenti diversi. We are going to go on through the advent time, with the real first preludi chorale of the Orgis di Usilai, the Nuncom der Heidenheiland. The text of this chorale, and the melody, comes from a Latin hymn, Veni Redemptor Gentium. It is an hymn by St. Ambrosius, just for advent time, so the waiting time, and this is the melody. St. Ambrosius, just forventi. The melody is a text from the second Gregorian tone, and Bach takes this melody, writing the piece in A, as a transport of the second tone, the second Gregorian tone. The melody of the chorale is on the right hand, as most of Orgis di Usilai's pieces. The piece starts from soprano A, descending to pedal with a sort of arpeggios, in style of cembalo, with appogiaturas that give fashion to the sequence of notes. These appogiaturas emphasize the imperfections of man, God, that means perfection, who makes himself imperfection in a man's flesh, apart from sin. At the same time, this man, Jesus, became a stumbling block, because of his fidelity to the Father, as a witness of truth and love amongst men. Bach emphasizes this through the little steps on the pedal. The starting descending arpeggios, from high note to the bass note, represents the descending God from heaven to earth. All right, so now I'm going to play this first chorale of the Lord of Bülfelen, Nun kommt der Highland Highland, and I'm going to play it two times, with two possible registrations, to my opinion. Also, the kalan, the time with one multiple registrations. una prima registrazione che è indicativamente molto più meditativa pensando diciamolo così a un insieme di voci che sono tutte importanti nonostante il soprano abbia comunque sempre insieme la melodia del corale tutte le altre voci comunque sono importanti quanto il soprano quindi nella prima registrazione è più meditazione, la stima è più meditativa e tutte le stime hanno la stessa importanza anche se il soprano è più importante, ma comunque tutte le stime sono importanti e pensando a questo stile meditativo che può essere una meditazione personale sull'attesa, sul waiting time, l'attesa di Cristo in mezzo a noi possiamo anche pensare a un'attesa di un'assemblea che tutta insieme attende Cristo che nasce in mezzo a noi quindi nel primo senso, il senso meditativo la scelta ricade su principali otto piedi e sedici piedi e otto piedi al pedale sono in primo senso, il bisogno della scelta nel primo senso, nel primo senso, il primo senso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti in questo primo esempio la discesa Dio che discende in mezzo a noi sulla terra e la pietra di Giampo 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 e un'orchestra che fa una sorta di motivo imitazione di Overture alla francese e la pietra di Giampo 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 quindi mi piace pensare ma questa è un'interpretazione personale molto personale mi piace pensare a un'altra possibilità di esecuzione di questo corale che potrebbe essere nel senso della cantata, quindi a imitazione di una virtù della francese. Questa è una interpretazione, una interpretazione che ha un po' di un po' di più in questa francese. Più di più in questa cantata. In questo dato, invece, con un ripieno. Con tutti i registri. che dà l'impressione di una assemblea che insieme tutta aspetta tende il Signore che viene questo è in grunde, come ho detto prima, questo è il pensamento della ricordazione di persone che tutti aspettano a Dott e questa fiume in clara ripeto una libera scelta interpretativa questo è ovviamente una interpretazione grazie a tutti next we try to have quite a nice parallel with the waiting time in the sense of keep us ready to receive the Messiah, the man's Savior he come, we must be awake to receive him the Bible text is that of the ten virgins, the five wise and the five foolish in the elaboration of Bach's famous prelude chorale the piece is a transcription from cantata 140 this is the chorale for tenor the waiting, the waiting impose us to be ready with lamps of our heart on to receive the grace of redemption the original version, the original version is for first and second violins, viol and basso continuo here the right hand and pedal the cantus firmus, the cantus firmus, the cantus firmus, the cantus firmus of the chorale sung by tenor in the original cantata here is on the left hand as a solist the rise notes on the right hand, the famous rise notes on the right hand in which the peace begin as well as the appogiaturas the means for faithful men the rise up to be awake in waiting God come the melody very well known is this one a 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 the melancholy accent placed on the time elapsed on the old year that has passed musically translates into an apparently simple conduct but in reality much rearer from the point of view of the choral treatment in in fact instead of being left intact perhaps in the background it is placed in the limelight but adorned with embellishments and passing notes that give it an exceptionally excessive tone also for the intensity of the chromatism that we find on the left hand and to the pedal actually it is really a sad meditation we would say it is really a sad meditation about our 2020 this year almost at the end that leave us as a black year that will remain in the story we all hope for a next better year winner over the pandemic l'ultimo corale appunto the salter ear for gangenist is no in italiana non in inglese è suonato su questo strumento con la mano destra al primo manuale con flauto 8 e flauto in quinta e la mano sinistra al secondo manuale con bordone di 8 piedi al pedale abbiamo sul basso 16 piedi e l'unione del secondo manuale al pedale non this is that lap North ball nagay won't mine the last Aww of per per front per Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti